Campeggia in Viale Roma, fiero ed orgoglioso, il monumento dedicato dalla città al suo navigatore più famoso, Antonio Pigaffetta. Era il 1519 quando si imbarcò col portoghese Ferdinando Magellano e salpò dalla Spagna per il primo viaggio di circumnavigazione del mondo. Tre anni che costarono la vita ai più che Pigaffetta raccontò e descrisse il ritorno. Era dimenticato, poco illuminato e malvalorizzato questo monumento come abbiamo segnalato noi di Rete Veneta. In risposta al nostro appello e per ricordare i 500 anni da quell'eroico viaggio, la città di Vicenza iniziato in queste ore, un lavoro di riqualificazione, pulizia e illuminazione del monumento, ideale via un percorso di valorizzazione della storia di questo navigatore, coraggioso scopritore del mondo. È un esempio, un simbolo che si ripete con i nostri capitani di impresa, questo mi piace collegarlo alle nostre imprese, che Vicenza rappresenta la terza provincia d'Italia per l'export e quindi questo grazie ai nostri imprenditori che sono i nuovi Pigaffetta del 2000. Da qui il 20 settembre inizieranno tre anni di celebrazioni organizzate dal Comune, dall'Associazione Marina e d'Italia e dall'Associazione Pigaffetta 500. Per noi l'importante è il 20 che fosse perfetto perché da qui partirà tutto il percorso del viaggio di Magellano di cui Pigaffetta è stato protagonista perché è quello che ha scritto la storia che è rimasta nel tempo. Primo appuntamento il 20 settembre con una maratona di letture organizzate in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana. Il sindaco è il primo lettore, ci saranno 80 persone coinvolte nella lettura dello scritto originale del viaggio di Magellano con Pigaffetta.